Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì assieme a dare la ragazza e oggi per la prima volta cioè in realtà non è la volta ma come se lo fosse giocherà a brawl stars faccio schifo ho tentato 10.000 volte di farla appassionare a questo gioco non ci sono mai riuscito ma oggi ragazzi in video assieme a voi vi farà vedere quanto è forte su brawl stars senza averci mai giocato siamo su mx musics e oltre 17.000 coppe quindi direi di cambiare account perché io le mie coppe con lei non le rischio mica ragazzi assolutamente no ma prima ti fidi ma no che non mi fido cara cioè non giochi mai a brawl stars e adesso devi giocare contro i pro player no mi sembra tanto una cosa che non dovresti fare andiamo sul secondo account signori ovviamente ragazzi vi ricordo che qui sotto in descrizione troverete il link per il mio secondo canale robbie lì usciranno video totalmente differenti dal gaming e andatelo subito a seguire secondo canale sarà il top del top ragazzi link in descrizione andatelo subito a seguire iscrivetevi now e se non avete ancora lasciato like se rivolete danni sul canale ovviamente lasciate un bel like che so devono fare lasciare un bel like è giusto ragazzi e troverete in descrizione anche il link per il suo account instagram e tik tok quindi 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 allora il telefono io ho molta paura ma lo lascerò nelle sue mani adesso puoi fare quello che vuoi puoi giocare spacchettare puoi davvero fare quello che ti pare ma prima ragazzi vi parlerò di boosteroid una delle migliori piattaforme di gioco streaming online disponibili sul mercato ma attenzione raga perché c'è una novità infatti hanno finalmente aperto dei server in italia e questo renderà la vostra esperienza di gioco ancora più fluida e con ancora meno lag c'è una roba pazzesca per chi non sapesse cos'è boosteroid in pratica è questo sito che vi permette di giocare senza per forza aver bisogno di un computer da gaming quello di cui avete bisogno solamente una connessione a internet e un abbonamento boosteroid e poi guardate potrete giocare a tutti quanti questi giochi che vedete al mie spalle tripla fifa forte gta davvero ragazzi di tutto c'è su boosteroid il link ovviamente lo lascio qui sotto in descrizione fatemi sapere cosa ne pensate questi sono i brawler ok scegliamo una femmina perché dai perché è una femmina ci sono un sacco di ragazzi su brawl stars se vuoi una femmina usa una femmina però ci sono robot ci sono addirittura c'è un cactus non so se ho sbloccato spike sul secondo account però mi sa che si uno divertente che la faccia divertente guarda semino quanto è divertente dai semino semino prova semino clicca semino seleziona semino e seleziona adesso puoi giocare o fare quello che ti pare per giocare basta che vai qui clicca su tutti quanti questi queste modalità scegli una modalità che ti piace e prova occhi chiusi e come occhi chiusi ma tu non puoi giocare un gioco a occhi chiusi questo football con semino ci potrebbe anche stare io non ti dico niente non ti dico come si gioca non ti dico come usi usa semino tu vai gioca oggi voglio farmi un po di risate vai 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 gioca c'è per giocare come boh ci sono delle levette a destra e delle levette a sinistra tu prova a fare una combinazione di levette e vedi cosa succede come what are sono fortissima ma se tu metti ragazzi stai giocando con il pollice sopra semino cioè non vedi semino cioè ma come si spara sta cliccando a caso ragazzi wow ma che cosa lancia allora vabbè ti devo dire questo lo scopo di questa partita no hai già utilizzato una super così a caso tu sei questa perché stai ferro muoviti quella che ti sape fare gol lo scopo di questo di questo gioco no ferma dai no ridivi dopo che muori ridivi lo scopo del gioco però è fare gol e loro hanno una palla loro e ti hanno appena fatto gol quindi stai perdendo no ma non me l'hai detto cioè io che ne sapevo si 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 e no 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 esco a footbrawl cosa può essere il foot appunto come il calcio no il football e dove la prendo la palla sta qui vedi che c'è l'immaginetta sei morta di nuovo sono proprio una frana raga allora ok ci sono ci sono questa è la volta buona eccola la palla vai attacco 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 no allora la tua quando esce il pallino giallo praticamente tu crei un muro e il muro puoi utilizzare sei morta di nuovo e loro ti sarò per fare gol ti hanno fatto gol hai perso mi spiace non fate quella faccia è normale perdere all'inizio e footbrawl è una modalità un po' complicata ma me si era la seconda più forte perché è la seconda più forte non lo so in ordine no 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 tu sei sempre al centro mi spiace va bene ti sei divertita si si mi sono divertita mi piace mi piace allora facciamo così semino un po' complesso tutto da utilizzare hai scelto uno dei brawler uno facile con la pistola esatto esatto è anche una ragazza la prima tra tutte ossia shelly che vado anche a migliorarti al grado 8 perché c'è l'occhio bendato perché è una bandita oppure se vuoi tata questa questa però c'è c'è rotto in faccia non fa niente non fa niente ok selezionala selezionala ok almeno a selezionare i brawler ci riesce esatto adesso cambiamo modalità esatto troppo difficile quella puoi scegliere arraffa gemme arraffa gemme puoi arraffare tutte quante le gemme ok vai adesso clicca su gioca lo scopo del gioco è arraffare le gemme ok l'arresti mai detto si ah è giusto arraffa gemme avrebbe detto che bisogna arraffare le gemme sono quegli esagoni viola al centro della mappa ma dove le trovo le gemme al centro della mappa vedi che c'è un buchettino tutto iper fluo grosso ragazzi avreste mai detto che la mia ragazza è così scarsa a giocare wow che mossa che ho fatto non ha senso ma hai fatto no quali gadget ma dovevo spiegare tutto ragazzi cioè immaginate voi di spiegare ed è pure morta con il primo è il primo è troppo forte devi stare lontano del primo tu hai un fucile il primo ti tira i pugni ok allora mi sono appena accorto che è davvero molto 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 difficile spiegare come si gioca su un account già iniziato a una persona che non ha mai giocato a brawl stars ecco sta pure sparando le super a caso ma cosa fai allora guarda il cappellino del king vediamo se sono migliori allora ferma non sparare a caso allora guarda ci sono i nemici rossi le tre tacchettine gialle sono i tre colpi che hai se tu spari a caso non è che ucciso ucciso vado 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 no a parte che l'ha ucciso stecca no no l'ho ucciso io no l'ha ucciso stecca non l'ho ucciso tu e poi perché scappi di continuo vai contro i nemici vai stiamo vincendo non sparare a caso non sparare a caso aspetta che arrivano ma che ero incendo bisogna arraffare l'intereggente ok brava arraffare corri corri via corri via corri via corri via proteggi lo stecca e vai spara un po' dietro non andare vicino al primo ok brava 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 no spara gli spara gli spara gli spara gli spara gli spara gli brava brava si corri via corri 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 via corri via corri via corri via ok c'è quello il primo che non deve morire se muore il primo sei di nuovo punto e a capo ok perché spari senza nessun amico dai danni ce la puoi fare sparaglia questa ok attenta a quei mortis attenta a quei mortis 3 2 1 ragazzi sono king proprio ragazzi esatto oh il cappellino ha funzionato raga questo cappellino non solo ti fa trovare nuovi brawler sono la più forte di mushix ma dove? si si ma dove? ma dove? non è vero non è vero ah io anche ah il migliore mamma non sei il migliore della partita ma hai vinto questo è l'importante ci ho fatto giocare anche con un brawler al grado 10 ragazzi quindi comunque ma tu sale l'ansia ogni volta che giochi? si 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 sale sempre l'ansia mamma mia e qui sei solo a 2.000 coppe pensa a 17.000 ci sono giocatori molto molto più forti e ci sono addirittura giocatori a 30.000 coppe si qui si può essere davvero molto molto bravi guarda c'è una cosa troppo figa che io faccio spesso nei video non so se qualche volta mi hai visto ossia si possono aprire delle casse si si apriamo ok solo che qui guarda ho praticamente tutti quanti i brawler mi mancano solamente i leggendari ma io sono forte usciranno no ma qui è impossibilità ti impossibilità nel libro io voglio farti trovare un nuovo brawler quindi cambiamo adesso che ho cambiato account ti faccio provare l'ebbrezza di aprire le mega casse tutti quanti vogliono sempre aprire le mega casse e io te le farò aprire oggi ho ricaricato le gemme ok questa volta sponsorizzo io che sono il tuo ragazzo la prossima volta però ce li metti tu perché adesso vedi quanto è bello aprire le mega casse va bene va bene questa è un'offerta cioè costano 240 normalmente ma noi le abbiamo a 119 perché brustast fa ogni tanto qualche regalino quindi vai vado allora se ti esce il numero 6 ok fidati e esulta va bene se ti esce il 7 fidati e strappa tutto se ti esce l'otto se ti esce l'otto non ti esce facciamo le ciabatte eh ma le già già lanciate vabbè 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 tanto non esce l'otto vabbè vabbè fai 3,2,1 e poi cliccaci 3,2,1 vai vado si si ma ragazzi è il cappellino del king è il cappellino del king dai un bacchino ma lo veri no ragazzi mamma mia subito un 6 subito un 6 non so se ci sono dei gadget vabbè tranquilla se c'è un gadget non mi vedi esultare tranquilla vai 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 speriamo nel nuovo brawler questo credo che sia muscizzo 10 tipo qui c'è energia vai attenzione ragazzi non cliccare velocemente clicca una volta e adesso vedrai una cosa luccicare ok vai guarda qui in fondo ok ok c'è una cosa che luccica è un nuovo brawler probabilmente se non vedi una cosa che spinna significa che non è un nuovo brawler se è un nuovo brawler scresciamo le dita vai ragazzi vai 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 si si è un epico è un epico ragazzi frank l'epico abbiamo ancora altre due mega casse ok c'è è presente i primi personaggi ne ho trovato uno nuovo che puoi giocare da adesso in poi vai fortissima fortissima vai vai riclicca ne manca il raddoppio 400 raddoppi aggettoni casta iper fortunata vai avanti abbiamo ancora altre due casse ok ti piace spaccazzare eh lo sapevo lo sapevo ok vai 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 è un 5 è un 5 potrebbe essere comunque un nuovo brawler però è molto raro vediamo se abbiamo tutta questa fortuna oggi attenzione 3 2 vai non luccica non luccica dopo questa abbiamo ancora un'altra mega cassa dai io ti sto viziando eh perché normalmente non si avevano 3 mega casse di fila appena uno inizia però fa niente fa niente rilassati prima abbiamo fatto 3 2 1 quindi andiamo di nuovo ok 3 2 1 via 5 5 5 allora già aver trovato un nuovo brawler su 3 mega casse è molto buona come media quindi già siamo belli fortunati oggi vai vai vediamo cosa trovi e vedi questi numeri che permettono di potenziare i brawler quindi comunque con queste mega casse abbiamo dei brawler più forti rispetto a prima quindi andiamo avanti ok va bene non c'è il nuovo brawler ma scialla se me lo scarico questo gioco mi piace e beh eh sì è molto bello direi hai appena trovato oltretutto un brawler epico c'è ci sono quelli del capo dei trofei i rari i super rari tu l'hai trovato epico dai possiamo migliorarli ci giochiamo possiamo migliorarli facciamo giusto velocemente la partita dai devi selezionarlo si chiama frank guarda è un po' uno scembione frank però ci sta lui segue molto il ritmo ok ok vai seleziona scegli una modalità cambiamo dai qui c'è solo la raffa gemme purtroppo quindi vai torri la raffa gemme frank ha tanta vita ma è un po' lentino ah te ne accorgerai ogni brawler ha uno stile differente ok wow dalle martellate ma cosa sei diventata napoletana adesso wow ok vado vado lentamente vai vai guarda la sua boom spacca tutto allora se tu usi la tua super cioè quando colpisci tre volte i nemici ok hai il pallino che ti diventa dorato te ne sei accorta? ok quando il pallino ti diventa dorato e colpisci con quel colpo i brawler nemici si rimangono fermi sul posto oddio oddio che cosa ne hanno fatto qui ok quello è il bombardino che lancia lancia della roba sul campo guarda guarda adesso si blocca no non è beccato nessuno no aspetta ferma scappa un attimo che devi riprendere via se non colpisci nessuno adesso riprendi la vita guarda hai visto? ok 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 adesso torna all'attacco vado vado vai vai brava 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 però no la super non spiegare visto che è rimasto fermo? ah sì sì figo figo questa qua è la super di Frank visto che è lento perché lui c'è un secondo prima che dà la martellata vai vai quanto allora vesce? siamo squadra blu sì io devo scappare tu sei il blu avete tre gemme tu una l'altra Shelly e sei l'altra Shelly insieme fate dieci gemme per vincere qui in raffa gemme dovete trattenere dieci gemme per quindici secondi guarda quello è altro devo proteggere sì brava brava ottimo adesso scappa anche duecentori vita se ti uccidono comunque non avete dieci gemme in totale ok perché è la somma delle gemme che avete voi due guarda tu tre e lui dieci ok adesso in realtà tu puoi andare avanti perché lei già ne ha dieci quella partita ecco sono fortissima sono fortissima io parlavo in maniera tecnica così e per spiegargli tutto e lei invece il migliore sono la migliore sono la migliore sei stata brava sei stata brava sei stata brava devo essere sincera non è mai morta ragazzi ha protetto ha protetto tutti quanti ha fatto un bel po' di super ha trovato un nuovo bravo e abbiamo totalmente fatto vedere il tutto e per tutto Brawl Stars e che ne pensi voto da un a dieci nove nove su dieci mi piace ragazzi ve lo devo scaricare soprattutto a spacchettare eh vabbè spacchettare dai tu mi compri tante casse se questo video arriva ad almeno diecimila like anche lei si aprirà un suo account e spacchetteremo con Dani sul nuovo account vi prego subito un like link del secondo canale qui sotto in descrizione link del su Instagram e del sotto il tocco qui sotto in descrizione ragazzi ci vediamo magari assieme a Dani nel prossimo video ciao ciao